Nel settore usato della grossa vacanza non ci sono solo camper ma anche caravan, le roulotte. Tra le tante esposte vi propongo questa Sterkeman, la 470 PE del 2010 a 11.900 euro. Leggera, facile da trainare, solo 1000 kg, con tutti i comfort che deve offrire una caravan moderna. Interno ampio e voluminoso, adatto alla famiglia, con due letti a castello spaziosi, una dinette che si trasforma in letto matrimoniale e a un letto matrimoniale pronto trasversale. Naturalmente questa caravan offre una stufa a un 3000 calorie, un frigorifero trivalente e un bagno con doccia compresa. Inoltre, comodo piano cottura, due armadi e un'infinità di pensili. Pensate, questa caravan, pari al nuovo, può essere vostra a soli 11.900 euro ed è solo una delle tante presenti nella nostra esposizione che vi invitiamo a venire a visitare. Grazie. Grazie a tutti.